E' allarme nelle campagne della provincia estense per la situazione critica legata alla siccità. Si rischia una situazione come quella del 2007. Ad inizio maggio il Po, secondo i dati diffusi dall'autorità distrettuale del fiume, registrava una portata del 40% inferiore alla media di stagione e il trend di primavera, sempre secondo l'autorità, è decisamente asciutto, una situazione che colpisce diverse colture a partire dalla soia. Il timore è che purtroppo quest'anno sia un anno dove la siccità la farà da padrona. Abbiamo dei dati che non ci confortano per nulla. Maggio è scarso di pioggia anche questo, siamo già oltre a metà mese e anche qui non vediamo delle precipitazioni naturali, quindi siamo molto preoccupati. In campagna ci sono già problemi, ci sono ad esempio grosse difficoltà per la soia che è stata seminata o non seminata proprio perché c'è siccità e quella seminata non germina. Tra l'altro è molto più esposta anche agli attacchi degli animali salvatici, quindi fagiani, altri animali che riescono a danneggiare purtroppo queste colture. Quindi se è seminata occorrerà riseminarla. In ogni caso accendere gli impianti di irrigazione, il che vuol dire costi per le imprese e vuol dire anche attingere una risorsa, acqua, che in questo momento i dati dei consorsi di bonifica e dell'Aipo ci dicono che è scarsa, nel senso che siamo a un livello medio di gravità, un 30-40% in meno rispetto alla media del periodo. Stessa situazione per grano e mais, colture che, sempre per colpa della mancanza di pioggia, hanno avuto la necessità di una irrigazione anticipata. C'è stata già l'irrigazione nel grano, anche questo è eccezionale. Non è consueto, non è normale irrigare il grano, è stato fatto da molte imprese. Per il mais ovviamente sì, le irrigazioni sono una pratica normale, ma è una pratica normale più avanti. Anche qui è stato necessario irrigare in molti casi per far emergere la piantina. La soia, appunto, se non c'è stata pioggia è stato necessario ricorrere all'irrigazione artificiale o bisognerà irrigare per farla emergere e poi crescere, appunto, come coltivazione. La siccità prolungata rischia di portare costi aggiuntive alle imprese. Un costo per l'irrigazione in quanto consumo di acqua, utilizzo meglio di acqua, e poi un costo ovviamente perché chi irriga deve attressarsi, ha bisogno di attressatura, ha bisogno di irrigatori, ha bisogno di farli funzionare e questi funzionano a carburante, quindi sono altre spese che entrano ovviamente nel discorso del bilancio dell'azienda. Oltre all'impiego di mano d'opera, di personale, quindi è tutto un aggravarsi di costi, ai quali non sappiamo, a emesso potrà corrispondere un prezzo adeguato. Quindi se alla fine di tutti questi sforzi si debba o si possa raccogliere e avere la soddisfazione del prezzo di un prodotto che è stato così curato, così seguito per essere idoneo poi per la coltivazione e per la raccolta. Oltre alla siccità, le imprese agricole registrano anche gravi problemi di liquidità, per colpa anche dell'emergenza da coronavirus. Una recentissima analisi della Camera di Commercio sul primo trimestre economico del 2020 ha messo in evidenza che le aziende agricole, pur appunto avendo conservato l'attività perché non sono mai state chiuse, l'attività agroalimentare è stata considerata giustamente fondamentale, primaria, hanno un bisogno di necessità di liquidità finanziaria già di oltre il 40-44%, quindi quasi la metà delle imprese ferraresi non hanno risorse finanziarie di liquidità. Deriva sicuramente da problemi degli anni passati che vanno ad aggravare la situazione attuale, nel senso che anche tutta una serie di interventi che sono meno stati scritti nei vari decreti, poi l'applicazione purtroppo, stendiamo un velo perché è stata decisamente insufficiente rispetto alle aspettative, è tardiva, gravosa, ma voglio dire rispetto a questo moltissime non potranno accedere ai prestiti, ad esempio i famosi 25 mila euro o i 30 mila con Ismea perché non hanno un danno diretto da Covid, non riescono oggi a dimostrare in questa situazione attuale che la mancanza di liquidità è dovuta espressamente al problema del virus. Hanno problemi che vengono da più lontano, hanno problematiche di crediti pesanti magari che non sono conducibili a questo inizio di annata, quindi non possono presentare domanda. Il rischio è di non avere appunto liquidità per portare avanti la campagna fino alla fine. Il rischio è quello della chiusura. Il problema si è già manifestato con alcune aziende che hanno messo in vendita terreni o hanno tolto impianti frutticoli e stanno quindi riconvertendo, ma non si sa bene a che cosa perché la redditività poi ovviamente cala. paradossalmente oggi sembra più gravoso e meno redditizio avere un impianto frutticolo che un tempo era garanzia anche per le banche e quindi oggi non lo è più. Oggi c'è un grave problema di credito, garanzie, necessità proprio di avere funzionamento pratico e quindi non poter rispondere in modo adeguato alle esigenze di bilancio. Per questo gli agricoltori chiedono l'arrivo prima possibile degli interventi promessi. Tutto quello che è stato promesso venga messo in campo, ma realmente, quindi che non ci siano ancora attese, non ci sia ancora burocrazia, non ci siano portali che non funzionano, non ci siano richieste ulteriori di documentazioni che non sarebbero previste ma che tutti chiedono poi a corredo perché essere più garantiti, più tranquilli, così non andiamo da nessuna parte. Se i prestiti sono stati promessi dovrebbero essere stati già pagati a questo momento, invece non è così. Se gli interventi anche di ristoro in conto capitale, come è stato promesso anche per le imprese agricole, come per gli altri settori economici, devono arrivare che arrivino. Non capiamo perché ancora si debba rimandare a circolare applicative, a individuare quali saranno i soggetti. Quindi un decreto che esce a maggio funziona a luglio, un decreto che è uscito ad aprile sta cominciando ad avere adesso gli effetti. L'effetto annuncio non serve, anzi dà soltanto illusioni e poi lo scoramento quando ci si trova davvero a fare queste cose. Non solo ombre nel settore primario, ma anche qualche luce. Intanto che alcuni provvedimenti che arrivano a dare dei ristori di natura comunitaria sono in via di arrivo. In particolare mi riferisco al discorso dell'anticipo PAC, quindi i contributi per ettaro che le aziende ricevono. È possibile un anticipo, l'anticipo è stato fissato al 70% e anziché essere erogato come era a costume che venisse fatta l'anticipazione a ottobre, in grosso modo, dovrebbe essere invece liquidata per l'estate. Quindi diversi mesi prima le aziende che hanno appunto la possibilità di fare questa cosa, già istruite alle nostre pratiche, quindi è già tutto pronto per essere erogato, si aspettano gli adeguamenti proprio di funzionamento, ma dovrebbe essere erogata appunto per l'estate. Questa è già una piccola goccia magari, però intanto qualcosa arriverà. Riprende l'usanza napoletana e non solo di lasciare un caffè sospeso a favore di chi non può permetterselo. È la spesa sospesa attivata in piena emergenza Covid al mercato coperto di Campania Amica Ferrara. Dal 7 di aprile il mercato di Via Montebello ha riaperto i battenti e appunto dal 7 di aprile abbiamo iniziato a organizzare questa raccolta di denaro da parte dei nostri clienti. Se hanno piacere appunto possono lasciare all'interno di una cassetta presente al mercato di Via Montebello, la cassetta nominata spesa su spesa, dei soldini che andranno poi utilizzati per poter effettuare delle spese presso le nostre aziende agricole accreditate a Campania Amica di frutte e verdura di stagione da poi donare all'Onlus il mantello di Ferrara. Fragole, mele, cipollotti, asparagi, cavoli, insalata, zucchine direttamente dal mercato coperto di Campania Amica e gli scaffali dell'Emporio Solidale il mantello. Siamo riusciti a fornire appunto al mantello frutte e verdura freschi per le 200 famiglie che in questo momento hanno grave necessità di avere frutte e verdura pronti, disponibili ogni settimana. Un gesto di solidarietà che si rinnoverà anche nelle prossime settimane. Solidarietà anche con il progetto con la Caritas. Con Caritas abbiamo effettuato una donazione da parte dei nostri produttori Campania Amica che hanno consegnato frutte e verdure fresche anche in questo caso e una quantità di 350 trasformati all'aglio per poter fornire appunto prodotto per la mensa di Caritas. Siamo molto diciamo felici che i nostri clienti ci abbiano dato una mano in questo momento veramente particolare, difficile e le nostre aziende sono sempre state presenti e in queste settimane stiamo appunto notando che i clienti hanno piacere di acquistare i prodotti freschi delle nostre aziende del Ferrarese. In piena emergenza Covid ha attivato anche il servizio di consegne a domicilio. Sia prima del 7 di aprile, quindi dell'apertura dei mercati di Via Montebello e di Grisù e anche a seguire, i nostri contadini accreditati alla rete di Campania Amica hanno comunque fornito il servizio della spesa a domicilio presso i cittadini di Ferrara. Il servizio di consegne a domicilio effettuato dalle nostre aziende agricole è stato veramente molto apprezzato e continua a essere attivo. Ricordo che il mercato di Campania Amica di Via Montebello è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, mentre l'agrimercato di Grisù di Via Ortigara resta aperto il mercoledì dalle 8 alle 13.00. Grazie per la visione!